E' uscito il 6 al superenarotto. Nel mio segno 1.38 è Genesi 38 o se volete Gennaio 38 è la mia nascita. Ci manca un 9 lì in mezzo per essere 1938, ma 138 è Gennaio 38 o Genesi 38. 47 è Amodeo. In me sono venuti fuori Padre e Spirito Santo che sono 2.26 e il 26 che sono 2 in me, quei due aerei che sono arrivati lì, che vi ho fatto vedere, sono il 52. Poi c'è Amodeo che è MDA, che è codice fiscale di Amodeo, MDA, ma MDA è Adamo. Adamo è 30. Più il terzo nome che ho io, che è Anna, che è 26, fa 30 più 26, 56. E infine c'è Romano. Quindi, togliendo di mezzo quelli in mezzo che implicano un po' di calcolo speciale, si legge Gennaio 38, 47 Amodeo, 66 Romano. E chi è nato come Amodeo Romano nel gennaio del 38? Un 52, ossia due Dio, 26 e 26. Ma è nato anche MDA, cioè Adamo e Eva. Eva è 26, è uguale a Anna. Quindi ci abbiamo gennaio 38, Amodeo, 2 Dio, Adamo ed Eva, Romano. Naturalmente io non sono arrivato a immaginare una roba di questo tipo qui. E nel giorno in cui è uscito questo sei sospirato, che è la vigilia di domani in cui è nato mio fratello, il mio alter ego, ecco che a poche ore dalla nascita del mio alter ego, c'è l'alter ego di mio fratello, cioè io, Gennaio 38, Amodeo Romano. E in mezzo l'essenza, due Dio e Adamo ed Eva.